Alla grande con Vivi Sector si continua Darkwatch per il quarto gameplay perché ormai il gioco ragazzi va a bomba e non vedo l'ora di appunto completarlo perché è un gioco che mi sta piacendo veramente tanto Poi vabbè sto finalmente ritoccando la PS2, comunque retro gaming di Sony che era da un po' che non lo giocavo e voglio farvi vedere anche questa volta il mitico artbook e le dimensioni spropositate che non mi aspettavamo Ne ho già parlato nel gameplay numero 3, lo trovate linkato in basso insieme agli altri social, se vi fa piacere, venite a seguirlo Allora Allora eravamo sì arrivati in questa città Ho preferito salvare quel tizio nascosto Si Va bene, facciamolo Non me lo aspetta Va bene, facciamolo Cecchini Allora 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 E' l'osente. Grazie a tutti 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 Buonasera Certo che Grazie a tutti 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 Albi Grazie a tutti 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 Oh e Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti No Grazie a tutti 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 Basta Grazie a tutti 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 E Grazie a tutti 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 E se non Grazie a tutti Grazie a tutti Tutte le volte Grazie a tutti 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 No, no Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ma questo Grazie a tutti Grazie a tutti Potrò Va bene Grazie a tutti 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 Il mio potere sarà sconfinato! Noo mannaggia che scema! Stai rimandando l'inevitabile! Non puoi sfuggire al tuo destino! La tua anima vivrà in me per sempre! La tua anima vivrà in me per sempre! Stai rimandando l'inevitabile! Non puoi sfuggire al tuo destino! Non puoi sfuggire al tuo destino! Il mio potere sarà sconfinato! Non puoi sfuggire al tuo destino! Non puoi sfuggire al tuo destino! Allora questa cosa è positiva! Sapete perché? Perché ho fatto il salvataggio! Ci rivediamo tutti e due! E con me è bene! Non capisco tutta questa preoccupazione di perdere l'animo! Ci si vede, Jaime! È stato bello! Inferno! In realtà l'ha acquistato i poteri di Lazarus! I suoi piani sopravvivono in niente! Non è ancora finita! Scusatemi se faccio... Se faccio male che succede? Ma... …eppure? Spezzerò io stessa la marizia… Se proverai a fermo… Ti ucciderai! Mmm… Non trovi eccitanti questi nuovi sviluppi? Suppongo che ora lavoreremo in casa. Avanti, c'è del lavoro da fare! ah ti porto comunque alla stessa missione vogliamo un attimo s2 un attimo un attimo ok si c'ha il doppio finale facciamo si facciamo prima questo qua malvagio e poi dopo vi faccio vedere anche quello buono te lenti il 2 uuuu un attimo attimo Oh Grazie a tutti. 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 Muori, bastardo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Brucia l'inferno. Brucia l'inferno. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e... a tutti. 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 mamma mia ma i ragazzi li su temi ancora ebbè ma inizia diventa un po' ripetitivo ciao claudia buonasera no 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 il cacchio è quello qui sta pure questa voce così il tuo giorno qui da cazzo grazie indietro non no 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 non no non no a 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 tutte le cose come si abbassano a 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 una volta ma non lo farai di nuovo niente sconterai i tuoi peccati a 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 se è sicuro spero vi sia piaciuto vediamo al prossimo e sicuramente ultimo gameplay di dark watch questo gioco è veramente pazzesco perchè poi tra l'altro come ho già detto sulla ps2 per vedere entrambi i finali bisognava rigiocarlo da capo e e niente un mega 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 scollo ovviamente non vi dimenticate i link in basso social gameplay e tutto a 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